eccoci all'agnello treff e questo è il bivacco facciamo un attimo un giro per vedere quello che c'è vi mostro un pochino la vita del bivacco ovviamente si estende tutto fin lassù dove c'è la piazza di ponte chiarale questa è la parte un pochino più verace abbiamo tutto uno schieramento di sidecar tende di ogni tipo c'è chi sia attrezzato anche con come si può vedere con la stufa all'interno della tenda ural presidi di vario genere ognuno insomma crea la propria area di relax adesso è ora di pranzo per cui stanno tutti preparando da mangiare si trovano moto di ogni tipo dalle stradali con le tassellate a che sarà l'endurone stradali e adesso è ora di pappa quindi tutti a mangiare questo è l'agnello treff e